Adesso vi racconto una storia Allora c'erano due bicicletta che odiano un po' il vento dopo un po' che cercano di andare su un'isola dove c'è un botti ma non vogliono farli andare perchè su quest'isola c'è ancora più vento ma loro siccome sono scemi sto pedalando come un pazzo che sto per fermare se no che il rapporto è praticamente quello da salita mi viene da ridere perchè fa paura questo vento e insomma su quest'isola c'è un botti una specie di rifugio noi volevamo andare a dormire lì per non mettere la tenda a terra ma non vogliono farci andare su questo botti perchè dicono che c'è ancora più vento che qua e noi cosa facciamo? andiamo in un altro porto a prendere un altro traghetto per la stessa isola dove faremo ancora più strada per arrivarci però pazienza dai l'importante è scrivere una nuova pagina sul libro e scrivere che siamo pazzi devo cambiare marcia adesso devo mettere il rapporto da salita rapidissima ciao